Tre ori vinti agli europei, tre ori vinti ai mondiali, per cui non so cosa chiederti, semplicemente le tue emozioni per questo grande successo che hai ottenuto. Sì, sono state due esperienze fantastiche, uniche. Ho iniziato con l'europeo in Danimarca, con la nazionale italiana. È stata la mia prima volta in nazionale, quindi veramente una soddisfazione enorme. Sono veramente felice di aver portato tre medaglie d'oro a questo europeo. Vincendo in tutte e tre le specialità, nelle 200 metri, 5 chilometri e nella long distance di 13 chilometri. E poi sei andata in Polonia direttamente dalla Danimarca e hai fatto lo stesso percorso, però questa volta anche un atlete da fuori dal continente. Sì, infatti in questo mondiale era appunto un mondiale individuale, quindi senza squadra. Anche qui è stata un'esperienza unica, dove mi sono potuta confrontare con tutte le atlete più forti al mondo. E sono riuscita anche qui a portare a casa tre medaglie d'oro e in tutte e tre le specialità. Abbiamo visto tutto il movimento del palazzo al surf italiano che si è scatenato e ti ha celebrato anche con dei post, con delle foto, con tutto quanto del gruppo. Quindi com'è stato essere, diciamo così, la palatina del movimento azzurro? Beh, far parte della nazionale è veramente fantastico, soprattutto perché è una squadra molto unita e ormai è diventata come la mia seconda famiglia, siamo molto uniti tra di noi. Quindi vedere gli altri che sostenevano me durante la gara e anche dopo è stato veramente fantastico. E questa, tra una gara all'altra, vedere che continuai a vincere e prepararti sempre per cercare di mantenere sempre lo standard alto e quindi proseguire questa serie di successi. Beh, è stato un po' difficile anche mentalmente, fisicamente, però comunque quello era il mio obiettivo, quindi sono stata veramente felicissima di aver raggiunto tutti i miei obiettivi. Ma hai fatto un pronostico per iniziare questa doppia esperienza su quante medaglie vedi portare a casa oppure non ci hai pensato? Beh, io speravo al massimo, quindi ci sono riuscita. Io ora mi domando una cosa, adesso come si fa a tornare in acqua e preparare i prossimi appuntamenti quando praticamente adesso hai raggiunto tutti i risultati più importanti per essere una ragazza junioris? Beh, adesso ci vuole ancora forza e preparazione e allenamento per il Mondiale in Puerto Rico che si svolgerà dal 28 ottobre al 6 novembre e spero anche di portare una medaglia a casa.